Ciao a tutti e qui sono io il vostro master di un anteprima Oggi siamo su Battlefeedback Company 2 per fare anche il continuo di Road to M95 Questa volta sono in compagnia di Independence Game, bella fratella Hey guys, salve a tutti, sono Independence Game e oggi sono in grande compagnia Allora, stato del gameplay è una partita preset normale, non mi ricordo il numero della mappa Te lo ricordi te? No Gioro di... Aspetta, mi sembra che era... Giorno di raccolta, dovrebbe essere Siamo in preset normale Siamo entrambi cecchini Quindi siamo soldati letali Dalla lunga distanza Tu sarai letale Io non molto perché sono a malapena a primo livello Io adesso cercherò di utilizzare il goal Perché devo continuare a fare kill Con quest'arma perché così sbloccherò Quello dopo che non so che cos'è Non mi ricordo Qual è dopo il goal Che bella postazione è grande Attenzione perché qui Sulla nostra destra ci dovrebbe Cacchio ce n'è uno alla nostra sinistra Ah l'ho visto Ah ti lancia le granate Che cane Aspetta mi metto da qualche parte Ok lancia i cinesi Lancia tanti cinesi così I cinesi salvano la vita Sempre e comunque Dai che boss Io non ne vedo dove Allora sono tutti dentro Evidentemente ai palazzi Perché ce n'abbiamo uno alla nostra destra Uno dentro alla soffitta In lontananza Uno a piedi E poi li ho persi E uno sul cale E' vero Appena esploso E poi c'è il lanciatore di puffi Che c'ha quasi Oddio è qui sotto uno da noi Di fronte Sì l'ho appena accorto Deve essere scopercato Lo uccido io Vai E' tutto tuo Potresti fare L'hai ucciso Sì l'ho ucciso Però dopo me non ucciso Ok io ho ucciso quello che ho ucciso Te Cioè vabbè Abbiamo fatto il scambio di bara qui Appunto Oddio Io ho ucciso un tizio Che dopo tu uccidi C'è proprio il scambio di favori qui Ok Giro con la colta Due secondi Vediamo se riesco a fare Io sono davanti alla Al cadavere del blindato qua Oddio Oddio Io mi sa che morirò Upsì Infatti sono morto Mi ha fatto espodere la casa addosso Parlando di case che esplotti Guarda 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 Sono un grande Sto migliorando Guarda ne ho ucciso un altro Che grande Ah è fantastico Quella partita Si arriva fino a 150 tic Uh stavo per rianimarmi da te Peccato Ho perso l'occasione Che sfiga Mi è arrivato uno con l'M95 Wow Fantastico Allora abbiamo un ipercecchino qua Oddio Che cazzo è Ce l'ho di dietro io mi sa Ah vengo dove sei Mi ha ucciso Sei sulla collena dove eravamo prima Ah ok Ah che questo c'è il gol Fia il Il Turk Capitan Majestic Mi ha ucciso il Capitan Majestic Non so chi è Allora Vediamo un po' Commento sulla partita Spero che andrà bene dai Ah intanto a me mi sta andando benissimo Cioè Meglio del previsto Meglio del previsto Non pensavo di fare già tre kill subito Senza Boom Cioè pensavo prima di morire sette volte Poi parlare Invece Sei già Morto una volta Sei già tre kill Quattro kill Ah Entanto io Sono a sinistra Nella casa di fronte piccolina Non quella grande Mezzo distrutta Dovrebbe esserci un altro Lancia un cinese Sì Lancia un cinese Vediamo se l'individuo No Il cinese non funziona Eh beh è made in china Cosa vuoi Ti puoi aspettare grandi cose No Che cazzo è questo Oh Oh Che culo Uff E' trovato Ah ah Ce n'è uno Dov'è dove dove Ah Uno col vito Un like L'hai capito Che l'hai appena No Mi è appena arrivata la sua gra Ti ha ucciso uno che si chiamava Cerni Sun Cerni Sun Eh Vabbè Non è No questo qui c'aveva l'Aug Quello che ti ha ucciso Ha detto che c'aveva l'AiK Aveva l'AiK Ah quindi no Non era lui Ok Uh Ce l'hai di fronte Sì In movimento E anche in testa Io nuoto Io non si nuota vero No Sono mito Cioè non so se si nuota Sì credo No Qui si cammina sull'acqua Si è Gesù Yeah C'è uno con le M95 dietro di me Mi ha fatto un mare cane Non so dov'è Boh l'ho perso Tia madonna che male Bestia Bestia Santista Ah l'AiK Cos'è l'AiK No no è un cecchino Mi ha Tia mi ha Mi ha staccato in mezzo a camo Oddio che dolore Li ucciderà anche Ok lancio La casa dove eravamo prima Ci sono uno Uno Credo Eccolo col cecchino Stato attento perché Questo qui ci sta seguendo Ok lancio un cinese in lontananza Così vediamo dove cavolo stanno andando Oddio Non riesco a risalire Sono scemo Ma ok il mio personaggio è mongolo Vabbè è epico Ma niente Vado di qua Il mio personaggio è mongolo No Minchia Attento che ce n'è uno dietro con L'Aug L'Aug Vabbè mi uccidero sempre con una granata Che due Via Madonna Va molto di moda in Bad Company 2 Lancia granate Mamma mia Dovevi vedere a me quante volte mi hanno ucciso con le lancia granate Ammettiamolo Sinceramente è figo Ci va di uno scoop Che schifo Oddio Eh ma che cazzo ce ne sono Oddio Eh lì è pieno Cioè ce ne sono 3000 Ma che cacchio è Oddio Lì è pieno Lì è Non lo so Vedi una caterma Eh lì praticamente Sono come È la tanna dei serpenti Come dice mio padre Oddio Che è qui No che fake Questo si suicida però No non si è suicidato Peccato Ho fatto un assist Allora l'hai ucciso Grande Vediamo Intanto io controllo Il tuo culo Affinché Ah e va Allora ce ne sono due là 3 4 Dio mio Si spawna come C'è l'intera squadra là Uccidi No Ok Cagno ha ucciso uno Con la M24 L'ho ucciso l'altro Ok Tira la testa Ah ma te è vero Ti l'ho shottato Te no Mi hanno appena shottato Mi sto spawnando Ah c'è il cecchino Ah eccolo Quello con la M24 Ah Dio È dietro È dietro Ma non so dov'è Ah che palle È un soldato Oddio mio mio Stanno bombardando Anche con gli aerei Mi sa È probabile Lo sai Eh Tipo se dito Merda Ce n'è uno qui E' quello con la M24 Grande Non lo so ma L'ho appena L'ho appena Diotato Bellissimo Va facciamo delle feste Oh si Ho sblocato Facendo i processioni Tipo 88 Oddio Oddio L'ho ucciso Fantastico Ok Stiamo calmi Appena muoio Prendo giù Voglio provare Qua cecchino Tipo 88 Ricordati che è Semi automatico Spara a grafica Proprio Ah ok Madonna Eh si Infatti sto combattendo Contro Sono volato fuori Secondo me Mi sono No merda Mi è crollata la casa Mio dio È arrivato il tizio Ha dato il colpo finale Con il 9A Che schifo Mi ha buttato giù la casa No io mi ero affacciato Dalla finestra Cavolo Mi è arrivato il missile in bocca Che fail Allora Mi fa Oh grande Gli ho fatto Assistenza Fantastica Bella Bella lì Oddio mio Qua sono più Cioè Su Bad Company Sono più bravo In Battlefield 3 Mi fanno il culo In 30 secondi C'è anche da dire Che in Battlefield 3 C'è la soppressione Ci sono molti fattori Che Micchia Ti demoralizzano Appunto Mentre questo qua Non lo so Questo qui Sembra un po' facile Cioè Facile Non dico che sia facilissimo Però Però se dobbiamo forse Mettere a confronto A Battlefield 3 È leggermente Molto più semplice In confronto Sì appunto A lui Perché Poi vabbè In Battlefield 3 È difficile fare il cecchino Girano tutti con il KM16 Quindi non è che via Appunto Anche se c'hai Barrett Ti uccidono Chi ha questo Vabbè Andiamo un attimo Tipo io non so più Ah ok Ho capito dove sei Stavo per dire Non so più dove sei E poi Lancio un cinese Perché là dovrebbe esserci Un ingegnere nemico Luck Ucciso Ah cacchio L'hai ucciso Proprio quando l'ho visto Io Stavo Oh Bella lì Ah c'è un medico Ah Ah Con l'M95 Sto sparando con i mortali Sì ci stanno Shottando con i mortali No l'ho cannato Ok Vai adesso Voglio provare un attimo Ok Spammali Di proiettili Cazzo Spammiamo Di proiettili Ti dico che c'è un grosso Rinculo Quell'arma lì Però Ma che strano Cioè in Bad Company 2 Abbiamo i cecchini Che con il calibro 50 Che ovviamente Sono di cinquantesimo livello Ovvero i più ciccioni Quando poi in verità È il goal Il più potente Però fa nulla Ma il goal Quanto cazzo Li sblocchi Il goal È dopo L'SV98 No Dopo il L'SVU Già mi dico una cazzata Vedete io ho fatto un hatch Proprio a distanza Millimetrica Se gli ho tagliato la barba Questo qua Da soldato Sei passato Esatto Allora ti dico che sono tutti in una casa Ma no Ha lagato Vedi questo qua Che si teletrasporta Che cacchio È uno con Luzzi Che va Luzzi È vero che qui c'è la zi Luzzi Luzzi Quello lì ci metto il replay Non me ne spiega Perché cosa fanno Io dalla killcam Quando mi hanno ucciso C'era un medico Che di fianco a lui C'era il cecchino Con il bar E ti è arrivata una granata E è volato via Dopo lo voglio vedere Dopo lo voglio vedere Dopo lo voglio vedere Che cavolo Che dici Concludiamo qua il gameplay Che fatto abbiamo fatto Un'ottima parte Appunto dai E dunque punteggio finale Dunque io ho fatto 15 kill Tu ne hai fatte 7 Grandissima Io ho fatto 6 Sui uccisioni Perché avevo fatto No 7 7 Perché ne ho fatta 6 Col fucile al cecchino E una con la pistola Perfetto Tu hai sbloccato il tipo 88 Io stavo per sbloccare il DSS Sniper Asuka Invece non l'ho sbloccato Fa nulla Quindi intanto io faccio i miei saluti Classici ovvero Se ai video vi è piaciuto ragazzi Lasciate un bel commento Soprattutto un bel mi piace Se questo è il primo video che vedete Mi basta di un altro Iscrivetevi bello Per continuarmi a seguire Ovviamente lascio il link In descrizione del canale Di Independence Game E intanto lascio i saluti anche a te Vai bello Ok da Independence Game è tutto Ci sentiamo alla prossima Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate e iscrivetevi Bye